Allora, questi delfini che si trovano morti nel mare di Lampedusa, che cosa sta succedendo? Non lo sappiamo, noi abbiamo segnalato il fatto perché è da più di una settimana che nelle reti prendiamo delfini morti con dei buchi in testa, sicuramente sparati, che questi tunisini hanno paura che li vanno a mangiare, le reti per cui li sparano. Quindi diciamo che sono le imbarcazioni tunisine che sparano ai delfini? Sì, sì. Ma dove li sparano? A 3 miglia, 2 miglia, 4 miglia da Lampione, dentro le acque nostre. Un momento, dunque 3 miglia da Lampione sono acque territoriali italiane? Acque territoriali, sì, e li sparano in testa. Noi abbiamo segnalato il fatto... Ma la Tunisia non è un paese comunitario, è un paese extracomunitario, loro non possono pescare secondo la legge? Sì, vabbè, secondo la legge no, però loro pescano pure a un miglio dalla cuore. Anzi, entrano pure a Lampedusa, vendono il pesce, vanno a comprare le casse di birra e poi se ne escono di nuovo tranquillamente. Quanti delfini avete trovate? Ma all'incirca una quarantina, più o meno. Tutti morti, tutti sparati? Morti, sparati, sì, con buchi in testa. Abbiamo segnalato il fatto e gli annali ci hanno chiesto che li dobbiamo portare a terra in quanto loro devono verificare e devono esaminare. Ma noi se li portiamo a terra dobbiamo perdere la notte per portarli a terra, il giorno, a chi ce li paga a noi? Ma a chi le avete segnalato il fatto? E le cambiente, là, com'è? Le cambiente, tarabinieri, insomma, senatrice. Pure la senatrice, le hanno detto a questa che la chiamano senatrice, non lo so chi è. Quindi, come è fatto? Abbiamo che i delfini vengono uccisi, nessuno fa nulla? No, nessuno fa nulla. Se noi prendiamo una tartaruga ci arresta. Grazie.